La Juventus ha fatto un altro movimento sul mercato e ha prestato uno dei suoi giocatori. La Juventus ha prestato il giovane italiano Giovanni Garofani al Monopoli, che attualmente è in Serie C. Giovanni Garofani, un portiere di 21 anni, è stato trasferito in prestito al Monopoli. La Juventus e il Monopoli hanno chiuso l'operazione di trasferimento in prestito, che manterrà Garofani al Monopoli fino a giugno del prossimo anno. Giovanni Garofani è stato portato alla Juventus nel 2016 per 27.000 euro. Prima di andare al Monopoli, il giovane portiere ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026. Lascia nei commenti cosa ne pensi del trasferimento di Giovanni Garofani al Monopoli. Vogliamo sapere la tua opinione?